Ho acceso 3 secondi fa, quindi... A parte che mi sono reso conto una certa che erano le 2 e mezza ed era troppo tardi perché tutte le lobby di prova erano già partite, c'è gente, comunque c'è l'UPS che sta provando. Sono in split 1. Quindicesimo. Io, madonna. Io sono diciottesimo, c'è Asciumi, c'è. Vortana, Eva. Powerbill. Glushy, RK, Aria, Almado, Bezzi, Antonio, Devils, all SVDR, Angelov, Jack, Biela, Lups, Io, Prez, Greg, Stelios, Antonio, questi qua non li conosco. C'è uno con l'NX500. C'è uno con l'NX150 da me. Cos'è? Corruptor. Sì. Oddio. Oddio. Ma che... Che trollata. Vabbè. E tu, Rerasing Team? Di chi? Aspetta. Che cazzo è? Da che non lo vedo più. Ostia. Vabbè, non ci fai... Ah, Lexus Enjoyer. Ma Lexus Enjoyer non è Albertini. Ah, boh. E lui? Boh, penso. Bazzi vabbè. Vabbè. Ma年 di vita... ase. the bravo. lo sapevo lo sapevo come on Grazie a tutti. 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 Oh, secondo! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mamma mia, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Va bene. a tutti. 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 a tutti.